In questo video guardiamo un esercizio che appunto prevede il rendering server side dell'applicazione. Come vi dicevo, questo esercizio avrà delle porzioni di codice incredibilmente simili rispetto a quelle della nostra single page application. Come solito guardiamo sia il codice sia il risultato finale. Questo è un progetto che si chiama ES Server Rendering creato con npx, Express Generator, come abbiamo visto al termine del video precedente. Questo progetto ha al suo interno, come appunto già nel video precedente, una cartella root che conterrà le root delle tre risorse, se vogliamo, che noi dobbiamo manipolare, i corsi, gli esami e le sessioni per il login e avrà un po' di viste. Alcune sono viste parziali, tipo l'header o il footer e altre sono invece viste più complete, come quella degli esami o quella dei corsi. Quindi questa è la vista del login che genererà una pagina che ha un header, una pagina che ha un footer e come corpo principale della pagina, all'interno di container fluid nel colonno, nel col 8, avrà un form con il metodo post che avrà un'azione, questa volta specificata qui, perché stiamo usando, non stiamo usando javascript per sottomettere il form, ma stiamo usando direttamente le funzionalità, messa HTTP, diciamo, il browser, con i campi esattamente come prima. Questo è lo stesso identico form che usavamo nella single page application, con appunto la differenza di questo action che nell'altro form non era specificato, in quanto usavamo javascript per gestire il submit. Se no, peraltro è identico. Così come il header è esattamente la pagina HTML che avevamo prima. Quindi c'è il titolo che ovviamente andremo a manipolare questa volta, il lato server per personalizzarlo, e poi abbiamo la navbar con tutti i loro bottoni, vedete che qui i link sono già inseriti nel header. Perché? Perché c'è questo codice, questi tag di EJS che ci permettono di attivare, disattivare, nascondere, non nascondere. Quindi se sono in una pagina senza titolo, che in questo caso è solo la pagina di login, tutto questo, tutta questa porzione, non viene renderizzata e quindi otteniamo lo stesso effetto che avevamo prima. E il cambio di link, di attivi, viene fatto attraverso questo, che di nuovo è molto simile a quello che facevamo prima. Prima scrivevamo dollaro, parentesi graffa, per il templating, adesso lo scriviamo direttamente qui come tag. Abbiamo bisogno di una variabile che si chiama active, ovviamente è passata questa pagina. E poi abbiamo il bottone di logout e quant'altro. Il messaggio di alerting, che di nuovo non avremo solo il div del messaggio di alerting, che riempiremo manipolando il DOM da JavaScript nel browser, ma questo messaggio di alerting verrà riempito se c'è, se il server genera, ma lui lo sa, un messaggio di errore. Quindi appena genera un messaggio di errore, invece di inviare il JSON del messaggio di errore, lo mette in una variabile e quindi in base a quel contenuto della variabile possiamo scegliere se visualizzare o meno questo messaggio. Quindi generare una pagina che ha già al suo interno questa porzione di HTML oppure no. E stessa cosa per gli altri. Poi abbiamo il nostro file DAO e il nostro file DB e il nostro database vero e proprio, che sono esattamente identici a quelli di prima, quindi copiate e incollati. I DAO sono, li ho messi per uniformità con tutto il resto, li ho messi in una cartella che ho chiamato model, ho fatto un DAO per l'esame e un DAO per l'user, dove il DAO per l'esame ha esattamente gli stessi metodi, scritti proprio nello stesso, è proprio un copio e incolla di quello che avevamo già prima nel server. Non è cambiata una virgola da questo punto di vista. Dove sono state fatte le modifiche? Beh, sicuramente abbiamo toccato, così come in public non abbiamo praticamente niente, abbiamo in JavaScript moment perché ci serve e abbiamo un piccolo JavaScript per gestire il logout, visto che il logout è un bottone, non è un form, e poi abbiamo un file che si chiama stylesheet.style.css che è vuoto nel nostro caso perché ci bastava bootstrap già prima. Dove abbiamo fatto le modifiche sostanziali? Le modifiche sostanziali sono state fatte, e così come per esempio la route di corsi, se voi andate a vedere com'era la get per prendere tutti i corsi, vedrete che è molto molto simile a quella che avevamo. Se noi andiamo a prenderla, prendiamola un attimo, da qua, questa per esempio, andiamo a prendere da server la nostra get dei corsi, vedete che la get dei corsi, che era questa, la get dei corsi aveva la url, che in questo caso è direttamente slash perché in app si chiamerà corsis, poi ha isloggedin, poi ha una function, poi aveva da exam.dao prendeva get all courses, che è la stessa cosa, poi c'era un den su courses, la differenza è che prima mandavamo un json e adesso invece renderizziamo la pagina corsi con un certo titolo e passando a quella pagina, questo oggetto corsi. Perché la pagina serve l'oggetto corsi? Perché la pagina deve renderizzare l'intera tabella dei corsi. Ma prima di andare in questo livello di dettaglio, lanciamolo e vediamo come funziona. Prima di lanciarlo vi voglio mostrare una cosa che ho fatto che non ho detto nel video precedente. In questo package.json vi ho detto che in questo start è possibile lanciare l'applicazione. E questo start di default è scritto in questo modo. node.slashbin.vvv dove www è il punto di file in cui vi lanciamo tutto. Quindi questo node.slashbin.vv è l'equivalente di quando facevamo node.server.js. Quindi questo è quello che rimpiazza il nostro vecchio server.js in questa struttura di cartella. Ma noi usavamo node.mon perché non volevamo tutte le volte stoppare e lanciare il server. Come ho fatto io per esempio nel video passato. Come facciamo a usare node.mon qui? Non possiamo scrivere node.mon.vvv oppure visto che abbiamo questo file precompilato che ci permette di fare npm start dove questo start è esattamente questo start si chiama start perché qui c'è scritto start potremmo qui modificare e scrivere node.mon.slashbin.vv e perché su windows ovviamente può scrivere npx.nodmon.slashbin.slash.w Esattamente quello che scriveva perché su windows con la powershell come terminale esattamente come si scriveva prima a mano lo scriviamo in questo file. Quindi se noi salviamo questo file e facciamo no npm start dopo aver installato tutto quello che serve vedete che il server parte e se noi aggiorniamo localhost 3000 troviamo lo stesso la stessa interfaccia che ci aspettavamo con la differenza che vedete nelle chiamate non chiamiamo più l'API ma chiamiamo direttamente getlogin che è una pagina vera e propria e qui poi il database è lo stesso quindi ci sono le stesse informazioni quindi test chiaccia la nuppo e la password è sempre test e vedete cosa succede vedete che adesso richiama fa un post a sessions perché è il nostro login e poi fa un get della root richiamando tutte le volte notate tutte le volte ricarica il server rinvia al browser il file css e il file javascript ogni pagina vedete questo riaggiunta di questi due file cosa che prima con la single page application non capitava ovviamente e se noi clicchiamo su esami abbiamo gli stessi esami sempre con il rinvio di nuovo di css e di javascript perché queste sono tutte pagine diverse sono pagine che il server fornisce una diversa dall'altra e se premiamo su logout come prima otteniamo il logout e renderizziamo la pagina di login ed esattamente come prima se noi cerchiamo di andare su exams per esempio senza essere logati ci veniamo riportati alla pagina di login quindi tutto questo è essenzialmente identico a quello che capitava prima con la nostra single page application allora guardiamo quali sono le modifiche sostanziali ovviamente partiamo da app in app non è cambiato all'inizio non è cambiato molto ci sono tutti gli import che già c'erano nella versione default abbiamo importato tutta la parte di passport passport, passport local ed express session per le sessioni importiamo le route che ci interessano quindi il file courses il file exam il file session creiamo la nostra applicazione express impostiamo come era già previsto dal da npx express generator il nostro template engine come ejs impostiamo il logger noi lo scrivevamo come tiny precedentemente e questa è la versione dev ha qualche informazione in più si può anche usare dev in passato nella versione nella versione single page application non c'è una è solo qualche informazione in più il logger è un pochino più verboso il logger è sempre lo stesso morgan usiamo sempre json come middleware perché perché per esempio ho mantenuto i messaggi perché mi sembra aver mantenuto qualcosa in json forse il logout impostiamo static quindi adesso ci arriviamo impostiamo static alla cartella public esattamente come impostavamo prima solo che adesso la cartella public contiene davvero solo immagini e fogli di stile e pochissimo già la script e poi abbiamo la configurazione di passport configurazione che è praticamente identica a prima questa configurazione è proprio un copy-incolla se noi andiamo a vedere visto che ce l'abbiamo vedete che ecco qua new local strategy user DAO get user se non c'è l'utente ritorniamo done col messaggio in corretto username se la password non è soddisfatta ritorniamo in corretto password altrimenti ritorniamo l'utente allo stesso modo il serialize e il deserialize sono identici perché? perché questi servono per passare dall'oggetto utente alla sessione o viceversa dalla sessione all'oggetto utente e quindi riempire il cookie quindi dato che questo creava una sessione riempiva un cookie lo mandava al server al browser questo continua a essere esattamente identico a prima così come il setup della sessione il secret con tutte le sue proprietà identico a prima e anche l'inizializzazione di passport identica a prima anche il metodo isloggedin in realtà identica a prima è quasi identica a prima la differenza qual è? eccolo qui la differenza è che inizia sempre uguale se è autenticato chiama sempre next che vuol dire vado nella root quindi in questo caso se era autenticato eravamo su questa root proseguivamo quindi eseguivamo il corpo di questa funzione in questo caso se è autenticato per esempio qui va a vedere in course router che cosa c'è e va avanti con le funzioni indicate in course router quindi è esattamente lo stesso principio quello che cambia è che prima quando non era autenticato dato che producevamo solo JSON producevamo uno status 401 con un messaggio non autenticato adesso facciamo un redirect a login potremmo anche fare un res.render una pagina di errore con un bottone a login però se non è autenticato dobbiamo comunque a un certo punto autenticarci quello che faceva se non ricordo male la nostra single page application è intercettava comunque questo messaggio non autenticato e poi faceva il redirect comunque a login quindi qui non abbiamo più da inviare un messaggio e poi una single page application da gestire il messaggio d'errore qui decidiamo direttamente che quando c'è un errore facciamo il redirect a login o con magari un messaggio di errore in alto se vogliamo però tanto se non è autenticato deve per forza fare il login poi ci sono e questo lo salto un attimo poi ci sono le varie root esattamente definite come nell'esempio del video precedente quindi sullo slash di uponline una volta fatto il login sullo slash abbiamo sia il session router per fare il login quindi su slash login in realtà avremo il session router e il course router è sempre su slash vedete non c'è niente nell'url per vedere i corsi e poi gli esami sono invece nell'exam router quindi sotto slash exams e sia i corsi sia gli esami devono essere loggati mentre ovviamente per accedere al session router non abbiamo bisogno di essere loggati perché non potremmo richiedere di aver fatto il login prima di visualizzare la pagina del login e poi c'è tutto quello che c'era nel template originale generato da nel file generato da express generator abbiamo aggiunto un middleware a cui manca un punto di virgola middleware che ci permette di definire alcune variabili precompilate perché questo ci serve perché per esempio noi abbiamo una variabile messaggio cos'è questa variabile messaggio la variabile messaggio contiene un eventuale messaggio d'errore quindi se ne facciamo logout e facciamo test unupo e mettiamo una password sbagliata contiene un messaggio vedete questo messaggio incorrect password questo messaggio non c'è sempre non deve essere sempre visualizzato nella pagina html ricordate che questo messaggio viene inserito nella pagina e poi viene mandato al browser l'intera pagina html anche se identica prima con questo pezzettino in più non inviamo più solo l'informazione sul messaggio rimandiamo l'intera pagina che avrà al suo interno questo allora dato che noi mandiamo sempre l'intera pagina e che questa pagina può contenere un messaggio dobbiamo dire che quando la pagina non deve visualizzarne sul messaggio il messaggio è vuoto quindi predisponiamo in un certo senso questa variabile che è globale per queste viste quindi è messa in questo app.locals che sono automaticamente passate alle viste un messaggio uguale a vuoto quindi di default il messaggio è vuoto e questo non si vede così come di default active è vuoto e quindi non c'è niente né di visibile né di attivo così come di default il titolo non c'è è solo openline non c'è un pezzo dopo del titolo e tutte le pagine se ne hanno bisogno possono accedere a moment come libreria perché moment noi lo utilizziamo solo per stampare le date degli esami quindi se noi qui scriviamo facciamo login corretto vedete che qui abbiamo un titolo che è ese courses quindi questa variabile verrà riempita con qualcosa di che serve il messaggio rimarrà vuoto perché qui non abbiamo nessun messaggio e active invece di essere default passerà a questo valore che è corsi quindi questa è una un middleware definito che si applica da qui in giù sempre i middleware si applicano da dove vengono definiti in poi ecco perché l'errore ecco perché questo è dopo tutti questi perché se no si applicerebbe prima e cercherebbe di intercettare tutti gli errori tutto come un errore invece tutto quello che qui non è fatto passa qui quindi definiamo questo middleware che si applica da qui definiamo questa funzione o meglio che si applica da qui in poi sulla root sempre quindi sulla root e tutti i suoi figli per cui definiamo delle variabili in un certo senso globali da passare tutte le volte quando non sono specificate alla nostra viste andiamo a vedere andiamo a vedere le nostre viste le nostre root perché quando andiamo sulla root su localhost 2.3000 chiamiamo in ordine session router e poi se è loggato chiamiamo course router quindi andiamo a vedere cosa c'è in session router quindi quando scriviamo localhost 2.3000 lui va a controllare in session router session router anche quando siamo loggati ovviamente session router a una sola ha un get e un post e un delete il post e il delete sono nuovamente fatemi riprendere identici a prima con l'unica differenza esattamente come prima che invece di ritornare un messaggio di stato 401 con le informazioni d'errore oppure ritornare il json con lo username torniamo direttamente visualizziamo direttamente la pagina che vogliamo visualizzare oppure facciamo il redirect dove dobbiamo fare il redirect quindi nel caso per esempio di errore visualizziamo la pagina login mettendo vedete in quella variabile message questa volta il messaggio d'errore qual è questo messaggio d'errore quello che per esempio abbiamo visto prima con la password sbagliato questo quindi quando viene fatto il login andiamo in questo post su slash session e visualizziamo questa pagina la pagina di login con il messaggio recuperato dall'errore che in questo caso è incorrect password e noi ci accorgiamo che stiamo visualizzando la pagina di login e non siamo nella pagina di login dall'url vedete che l'url non è più localhost 2.3000 slash login come qui ma è localhost 2.3000 slash session perché questa era una post session e quindi questo render renderizza una pagina come se fosse stato un get session e poi abbiamo il delete che è esattamente identico a prima proprio perché il delete il logout il delete che è collegato al logout che è esattamente identica a prima proprio perché per due motivi uno perché non abbiamo niente da renderizzare dovremmo renderizzare questa quando facciamo il logout e due per mostrarvi un esempio di come fare il logout col javascript dato che il bottone logout non è un form lui non può mandare un delete quindi serve comunque del javascript il browser non può mandare un delete non può mandare un post o quant'altro senza un form può mandare solo get senza un form e dato che il bottone login è solo un link abbiamo bisogno di gestirlo in javascript e allora gestendolo in javascript possiamo gestire tutto in javascript e questa è l'unica cosa che gestiamo in javascript nel browser che è dentro la cartella public javascript vedete questo logout .js che prende il bottone login aggiunge un event listener di click a questo bottone fa una fetch con una delete a session current e quando questa fetch ritorna quindi quando abbiamo quindi quando abbiamo quindi fa una fetch a session current con il delete quindi viene chiamata questa session current non delete viene fatto logout abbiamo una risposta quando la risposta ritorna indietro facciamo un redirect questo window.location vuol dire vai alla cartella slash login non possiamo scrivere page.redirect perché qui non siamo in una singola page application e non stiamo usando page come router quindi dobbiamo usare il javascript normale per cambiare la location la posizione del browser quindi gli facciamo cambiare la url e la facciamo dare a slash login quando premiamo logout come abbiamo visto prima questo è l'unico pezzo che facciamo in javascript un po' per mostrare un esempio e un po' perché effettivamente non è possibile come ripeto premendo un link mandare qualcosa che sia diverso da un get e dato che noi dobbiamo andare un delete dobbiamo farlo in javascript oppure dovremmo fare sì che quel bottone sia un form ma un bottone ma poi avremo problemi a visualizzarlo correttamente perché non possiamo visualizzarlo così dovremmo visualizzare solo il bottone qui con dei campi nascosti probabilmente allora per mostrare anche un esempio di javascript che stavolta gira nel browser e viene inviato tutte le volte abbiamo fatto così e poi session ha una get sul login che renderizza la pagina login come è fatta questa pagina login questa pagina login è nelle viste e la pagina login include l'header quindi tutto questo pezzo qui sopra con il messaggio vedete il messaggio viene passato nel caso ci sia e la pagina login prevede di avere un messaggio in caso d'errore e poi come vi ho detto prima c'è l'esatto identico form di login che c'era in passato con un solo cambiamento che prima chiamavamo questo name si chiamava email adesso si chiama username perché passport si aspetta di ricevere un form con scritto email con scritto username invece che email anche prima se lo aspettava ovviamente nella single page application ma questo passaggio tra username ed email questo passaggio di nome tra username ed email lo facevamo in javascript nel browser e quindi perché intercettavamo noi il form in javascript e allora mandavamo già l'elemento giusto al server adesso non abbiamo più perché questo form è gestito normalmente non è gestito non è intercettato da javascript e quindi non abbiamo più la possibilità di fare questo cambio di nome e quindi inseriamo come name user name che è quello appunto che si aspetta il e-passport e questo è la sessione poi una volta che abbiamo fatto la sessione vediamo la pagina dei corsi quindi la pagina dei corsi questa pagina qua cosa c'è nella root dei corsi la root dei corsi si aggancia sulla slash sulla root perfettamente qui e come prima ha un slogdin e ha un metodo col dao prende tutti i corsi e di nuovo a differenza di prima non torna più un json con l'elenco dei corsi ma fa il render di una vista di una pagina che si chiama corsis passando l'elenco dei corsi a questa pagina e un titolo che è corsis in questa pagina poi potete immaginare che per esami funzioni allo stesso modo in questa pagina abbiamo leader come prima a cui passiamo il titolo e passiamo questa volta anche la variabile active inizializzando la corsis perché dobbiamo rendere attivo questo link e al suo interno lo stesso main che avevamo prima quindi questa parte è in un certo senso ripetuta tra i vari questo potevamo metterlo anche nel ladder se volevamo così come questo nel footer se volevamo e al suo interno invece del form che c'era nel login mettiamo la tabella esattamente strutturata come era prima nel body della tabella possiamo fare un for each sull'array dei corsi e per ognuno dei corsi in questo array possiamo includere vedete questo include un course partial cioè un pezzettino di html da mettere qui tante volte quanti elementi ci sono in questo corsi e cosa passiamo a questo course partial passiamo il singolo corso di questo for each cosa c'è in questo course partial beh dato che questa è una tabella ci aspettiamo che in questo parziale di corso ci sia un tr compilato come come dobbiamo e vedete che in effetti nel nostro course partial c'è il tr con i suoi td questo course partial è l'equivalente in un certo senso se andiamo a prenderlo del nostro di quello che prima chiamavamo in template course template vedete che il create course row è praticamente identico a questo perché l'obiettivo di questo così come l'obiettivo di questa funzione di qui era creare la singola riga della tabella solo che qui lo facevamo attraverso java scritto nel browser qui lo facciamo attraverso un template engine nel server e quindi corsis finisce qui e include il footer stessa cosa se andiamo a vedere exam funziona per exam vedete sempre che exams ha sempre alla root slash perché l'aggiunta di slash exams viene fatto in app che importa questo ma exams funziona esattamente come corsi dato che ha una tabella quindi fa la query al database manda alla pagina exams un titolo esami e un array che contiene tutti gli esami e la vista exams creerà la tabella con un for each che chiama exam partial che avrà la singola riga della tabella esattamente come capitava per corsi quindi vi ricordo che questo root questo questo path è sempre relativo a quello che è contenuto all'interno della root relativa quindi pessimo esempio quindi il fatto che qui c'è scritto slash exams vuol dire che tutte le root tutti i path definiti qui dentro si agganciano dopo slash exams quindi questo slash vuol dire che qui è come se avessimo scritto è come se dovremmo scrivere nel browser slash exams ma siccome c'è già scritto nel file prima questo si aggancia direttamente a slash exams ora perché questi due funzionano funzionano nel caso qualcuno se lo chieda perché vedete questi due dicono se sono sulla root io devo chiamare all session router devo chiamare session router e poi se sono logato il course router allora se non sono logato è facile perché ovviamente l'unica cosa che posso chiamare è questo se sono logato io posso chiamare sia questo che questo come fa il browser a decidere che su questa root adesso non sono logato perché ho riavviato il server ho salvato e no devo non arrabbiare il server come fa a decidere il browser è anche il server che su questa root al localhost 3000 deve visualizzare questo e non la pagina di login dato che qui in entrambi c'è scritto slash andiamo a vedere un attimo cosa c'è in session e cosa c'è in course in course abbiamo in effetti slash quindi il localhost 2.3000 si mappa su questo metodo proprio perché prima non c'è niente in app e qui non è specificata nessuna pagina in session l'unico get che abbiamo che è quello che ci interessa da visualizzare non è sulla root non è su slash ma è su slash login e quindi è questo che fa il trucchettino per il server da capire quale pagina fornire perché? perché ovviamente cosa succede? quando arriva al localhost 3000 viene chiamata questa prima riga perché localhost 3000 matcha su questo e va a vedere in session router se c'è un qualcosa che può rispondere alla get su localhost 3000 in session router non c'è niente che possa rispondere a una get su slash perché c'è solo uno slash login allora prima di lanciare un errore express va a vedere se c'è nella secondo che è definito sullo slash un qualcosa che può definire il che può appunto essere chiamato e c'è una get sullo slash sì c'è questo quindi viene chiamato ma dato che quindi viene chiamato viene controllato che sei se uno è loggato se sei loggato si va avanti se non sei loggato cosa succede? succede quello definito dentro isloggedIn e isloggedIn che è in app isloggedIn dice che se non sei loggato devi fare un redirect a slash login e allora slash login è di nuovo qui e quindi tutto funziona come dovrebbe questo chiude questa parte server side di creazione della pagina come vedete è davvero relativamente semplice ed è davvero partendo dal template dal progetto creato da npx express generator è davvero un copy in colla con qualche piccola modifica laddove invece di mandare un json dobbiamo questa volta renderizzare visualizzare una pagina html compilata dal template engine ma essenzialmente il 95 il 99% è identico a quello che abbiamo già fatto con addirittura alcuni file tipo quelli del dao quelli del database che sono davvero identici o funzioni come queste di passport che già già prima essendo qualcosa che nasceva veniva gestita dal punto di vista di logica nel server sono proprio rimaste essenzialmente identiche 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 il cambiamento più grosso è ovviamente nel come renderizziamo e visualizziamo questa pagina invece di farlo manipolando il DOM o co-template o con i metodi singoli andiamo a farlo col template engine e queste viste in cui iniettiamo direttamente dentro del codice javascript per aumentare includere pezzi in più o pezzi in meno del nostro progetto del nostro sito questo è anche l'ultimo argomento di questo corso e quindi chiudiamo in un certo senso il corso qui la settimana prossima la prossima diciamo così serie di video visto che abbiamo ancora delle ore saranno e saranno dedicati a dei seminari che faremo che faranno due persone di due aziende dell'Alessandrino e auspicabilmente saranno videoregistrati e un breve video che sarà sempre per la settimana che sarà pubblicato fra due settimane che sarà riferito meglio alle lezioni di fra due settimane per dove andare avanti da qui quali sono i prossimi passi quali sono le prossime strade che si possono prendere cosa si può fare partendo da questa base che abbiamo per andare avanti nello sviluppo o a lavorare comunque nel web grazie a tutti i prossimi passi